Penso che indubbiamente ci sia stata l'affermazione di due populismi, del populismo adattativo, per come l'ha definito lo stesso Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto sia il voto di protesta che il voto utile, insieme. E quello leghista di Matteo Salvini, che ha saputo parlare al blocco sociale settentrionale, usando la retorica non più settentrionale, ma nazionale del prima gli italiani. Io distinguerei nettamente fra la sconfitta che subisce l'establishment del Partito Democratico per aver di fatto partecipato alle politiche neoliberiste e delle riforme strutturali dell'Unione Europea, Il Partito Democratico segue la scia di tutte le forze della socialdemocrazia europea. Credo che Liberi Uguali subisca un disastro elettorale, perché non si è distinto nelle politiche dalle proposte della socialdemocrazia, ma anche politico. Per la stessa ragione, quella lista non prevedeva davvero un'alternativa rispetto alle politiche del Partito Democratico, ma un'alternativa alla leadership di Renzi e questo agli elettori è evidentemente interessato poco, perché l'alternativa che si richiede è sulle politiche. Per quanto riguarda il potere al popolo, sicuramente un risultato elettoralmente al di sotto delle aspettative. Sapevamo che il 3% era difficile, ma pensavamo anche che questo progetto potesse raccogliere, pur nel breve tempo e anche in una significativa invisibilità mediatica, raccogliere più consenso. Quello che però ci sembra rimanere intatto è invece la prospettiva politica. Noi durante tutta la campagna elettorale abbiamo riscontrato un grande entusiasmo nei confronti della proposta di potere al popolo, che vuole unire le forze dell'alternativa politica, ma anche sociale, rispetto alle politiche di austerità. E questo entusiasmo l'abbiamo raccolto persino dopo il risultato del voto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dove noi siamo arrivati, dove siamo riusciti a farci conoscere, potere al popolo ha ricevuto consenso. Quindi questo ci dice che dobbiamo andare avanti, che non sarà facile, ma siamo assolutamente determinati a continuare, già a partire dalla prossima Assemblea Nazionale del 18 marzo.